Un sindaco dai due volti, inaffidabile quanto imprevedibile. Prima del 21 luglio, spiegano a Corato, c'era piena sintonia nella maggioranza sul progetto amministrativo da mandare avanti. Dopo quella data qualcosa si è incrinato e la situazione non è stata più recuperabile. Si assumono le loro responsabilità ma non ci stanno a finire sul banco degli imputati gli otto consiglieri di direzione Italia che con le loro dimissioni sono stati determinanti nel mandare a casa il sindaco Pasquale d'Introno. In una conferenza stampa convocata nella sede del partito spiegano le ragioni che hanno portato alla conclusione traumatica della consigliatura ad appena tre mesi dal suo inizio. Abbiamo conosciuto una persona affidabilissima, disponibile e sincera fino al 21 luglio, dal 22 invece abbiamo conosciuto un altro sindaco inaffidabile politicamente, per carità non discutiamo la persona e che non mantiene la parola data. Dintrono aveva dichiarato di non voler entrare nel merito della composizione della giunta lasciando ogni decisione ai partiti che lo avevano sostenuto, poi l'improvviso volta faccia dicono da direzione Italia senza alcuna condivisione il sindaco ha nominato un esecutivo di suo gradimento tradendo i patti preelettorali e addirittura cercando sponde nell'opposizione per portare a termine un clamoroso ribaltone, operazione che giustificava con l'intenzione di liberare la città dai sistemi della vecchia politica. E' legittimo ma questo fatto da chi si propone la città diventa sede con le sue forze e poi fa quello che vuole ma un sindaco che si fa accompagnare ad essere tale grazie all'appoggio e al contributo dei partiti che lui considera vecchi questo è un comportamento da traditore. Direzione Italia ha giudicato un atto di ostilità anche la decisione del sindaco di avviare le procedure per la revoca del segretario generale dopo 16 anni di servizio. Un tassello in più rispetto alla voglia di far del male a Direzione Italia e quanti avevano lavorato per Direzione Italia ma io dico il segretario comunale aveva lavorato e bene per l'intera amministrazione Direzione Italia e tutti gli altri partiti che sono stati presenti in Consiglio Comunale compreso l'opposizione non meritava di essere trattati in questo modo. Ad un certo punto la soluzione della crisi è sembrata ad un passo. Le segreterie provinciali e regionali di Direzione Italia e Fratelli d'Italia avevano cercato una mediazione grazie alla quale il sindaco si era mostrato favorevole all'idea di azzerare la giunta. A questo tentativo la dichiarazione del sindaco che diceva e si impegnava ad azzerare la giunta invece la giunta non l'ha azzerata anzi si ripromoteva di andare in Consiglio Comunale il 5 per eleggere il presidente del Consiglio Comunale e continuare come se niente fosse quindi delle parole del sindaco non ci siamo più fidati. Il commissario prefettizio guiderà la città sino alle elezioni comunali della prossima primavera Direzione Italia promette scelte più oculate per il futuro. Intanto come dire in un certo modo chiediamo scusa per aver sbagliato nella scelta e aver condiviso con gli altri partiti la persona sbagliata. Nulla da eccepire sul piano umano, sul piano professionale ma da assente che è stato un fallimento.